E' la massima espressione. Jean de Labadie, 1610-1674, mistico francese. Si dedica all'insegnamento della filosofia. Nel 1635 diviene sacerdote. Quattro anni dopo abbandona la compagnia di Gesù per una malattia contratta a causa delle eccessive penitenze e inizia una vita errabbonda. Suscita proteste per le sue teorie stravaganti e l'insubordinazione che semina intorno a sé. Si converte al calvinismo, ma presto se ne allontana per elaborare una mistica che vuole conseguire una relazione diretta con l'assoluto mediante la mortificazione dei sensi e la preghiera. A Ginevra raccoglie molti seguaci grazie alle sue doti oratorie. Il suo manuale di pietà è considerato fonte di ispirazione dei primi pietisti. Commento. Per Jean de Labbadie il misticismo è la massima espressione della spiritualità individuale e va ricercato in modo costante e tenace. Quindi nessun dogma religioso, sacramento, pratiche liturgiche, confessionalità religiose, niente al di fuori del divino che è già in lui. La vita di Jean de Labbadie spiega bene l'evoluzione dell'individuo giunto a buon punto nelle incarnazioni umane. Quando la coscienza che è il propulsore dell'evoluzione non ce la fa più a conformarsi alle gabbie della mente imposte dalla massa, cerca spiegazioni in se stessa dove trova la forza di continuare ad esistere nel piano fisico.